Buonasera, fra pochissimo saremo in onda con il telegiornale in questa domenica elettorale per l'Italia. Si vota infatti in tutto il paese per i cinque referendum sulla giustizia e poi ci sono quasi un migliaio di comuni chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni. 9 milioni gli elettori in questo caso. Allora continuano a fluire perché la rilevazione è quella delle 19 ed è ancora in corso. I dati sull'affluenza che sono bassi oggettivamente per quel che riguarda i referendum non arrivano al 13% e di poco superiori al 40% per quel che riguarda le elezioni comunali. Le urne chiuderanno alle 23 in tutta Italia. Subito dopo ci sarà lo spoglio dei risultati per i referendum che per essere validi, ve lo ricordo, devono superare la maggioranza assoluta degli eventi di litto. Quindi il 50% dei cittadini più uno. Domani invece ci sarà lo spoglio dei risultati delle amministrative che seguiremo con uno speciale del telegiornale condotto dal direttore Enrico Mentana. Questa è la situazione in questo momento per quel che riguarda i numeri dell'affluenza perché c'era molta attesa e c'era curiosità per sapere se i referendum possono ancora superare la soglia del 50% più uno. Al momento questo appare difficile, mancano però ancora diverse ore per la chiusura dei seggi. Si è votato con molta difficoltà a Palermo, è stata una giornata caotica perché sono mancati oggi molti presidenti di seggio e quindi diverse sedi elettorali sono rimaste chiuse per ore. Si è cercato di intervenire con rapidità ma alcuni seggi hanno aperto con grave ritardo. Questo ha suscitato grandi polemiche e accusa alla ministra Lamorgese. Sulla vicenda, su queste defezioni indaga anche la procura. Si vota anche in Francia. Qui il voto, le elezioni sono legislative quindi per il nuovo Parlamento ed è un voto difficile per il presidente Macron. Stanno chiudendo proprio adesso alle 20 i seggi nelle grandi città francesi con un'affluenza anche in questo caso molto bassa. Se verrà confermata potrebbe essere la più bassa di tutta la storia della Quinta Repubblica. Le prime indiscrezioni sui numeri che arrivano come sempre in questi casi dal Belgio dicono che la sinistra di Mélenchon avrebbe superato il presidente Macron. Ma è un voto da prendere e sono indicazioni da prendere con le molle perché in questo caso si tratta di un voto a doppio turno per chi non conquista subito la maggioranza assoluta. Quindi solo fra sette giorni avremo un quadro più definito. Poi naturalmente parleremo e molto di quello che accade in Ucraina. C'è grande preoccupazione perché secondo gli Stati Uniti l'intero Lugansk, l'oblast sotto attacco, potrebbe essere nel giro di settimane se non di giorni tutto sotto il controllo di Mosca. Tutto questo mentre nei prossimi giorni saranno a Kiev i leader di Italia, Germania e Francia. Per confermare a Zelensky il primo sì che dovrebbe essere abbastanza imminente per l'adesione proprio dell'Ucraina all'Unione Europea. Si continua a trattare e ci sono voci di un contatto del presidente russo Erdogan sia con Putin che con Zelensky per cercare di sbloccare la famosa vicenda del grano. C'è una notizia importante che arriva dagli Stati Uniti, un primo accordo nel Senato per maggiori controlli sulle armi. Vedremo poi se si trasformerà in un'intesa vera e propria e poi naturalmente parleremo di sport. Ferrari disastrose a Baku in Azerbaijan si sono ritirate entrambe, non è la prima volta che accade e questo è un campanello d'allarme. Ha vinto First Up, successo invece per un italiano a Stoccarda sull'erba Berrettini. Pochi secondi e vi aspetto qui per i titoli. Urne aperte in Italia fino alle 23, alle 19, era poco sotto il 13% l'affluenza per i referendum sulla giustizia che per essere validi dovranno superare il 50% più uno degli elettori, un numero che in questo momento appare abbastanza lontano. Sempre alle 19, l'affluenza per le comunali è sopra il 40%. Stasera lo scrutinio dei risultati per i referendum, domani quello per le comunali, con uno speciale del telegiornale che lo seguirà insieme a Enrico Mentana. A Palermo, dopo una giornata di caos per le troppe assenze tra i presidenti di seggio, il Viminale ha deciso di consentire di votare a chi si troverà all'interno dei seggi elettorali anche oltre le 23. Durissima, la ministra dell'interno Lamorgese che ha condannato l'assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni e i cittadini. I presidenti che non si sono presentati sono stati denunciati e la procura sta valutando ipotesi di reato che vanno dall'interruzione di pubblico servizio al rifiuto di atti d'ufficio. Secondo gli Stati Uniti, l'intera regione dell'Uansk potrebbe cadere sotto il controllo russo in pochi giorni. Intanto Scholz, Draghi e Macron sarebbero pronti a recarsi entro il mese a Kiev per incontrare Zelensky e consegnargli, se nel prossimo Consiglio europeo tutte le obiezioni verranno superate, il primo sì all'advisione dell'Ucraina all'Unione. Intanto si lavora ancora ai corridoi per il grano. Un gruppo bipartisan, quindi democratici e repubblicani, di senatori statunitensi ha raggiunto un accordo preliminare sulle armi, l'intesa riguarda controlli più stringenti sugli acquisti e ulteriori fondi per la sicurezza nelle scuole. Un passo importante nella giusta direzione, ha commentato il presidente Biden, per mettere pressione al congresso da New York a Washington manifestazioni nelle maggiori città americane. Hanno chiuso proprio ora in Francia i seggi nelle grandi città, mentre nel resto del paese si è votato sino alle 18 per il primo turno delle legislative, una tornata caratterizzata da un'affluenza particolarmente bassa. Forse non si arriverà al 50% e se questo dato fosse confermato si tratterebbe di un record negativo per la Quinta Repubblica. Dai primi dati la sinistra di Melenchon sarebbe davanti al presidente Macron. E poi lo sport, la Formula 1, disastro Ferrari a Baku, un problema al motore, ha costretto Leclerc che dopo 20 giri era al comando a ritiro nel Gran Premio dell'Azerbaijan, mentre Sainz ha lasciato la corsa per un problema ai freni. La domenica nera della Ferrari consegna alla Red Bull, prima con Verstappen seguita dal compagno Perez, una facile doppietta che pesa ovviamente sulla classifica generale. Allora di nuovo buonasera, vi dicevo della Francia, proprio adesso sono arrivati i primi exit poll che riguardano appunto quel paese, elezioni legislative. Ebbene, come vi dicevo, la gauche unita guidata da Melenchon, dal leader radicale Melenchon, avrebbe ottenuto il 26,8% dei voti contro il 25,8% della coalizione Ensemble di Emmanuel Macron. Questi i primi exit poll giunti dalla televisione francese. Ma veniamo ai nostri di dati elettorali, avremo tempo naturalmente nel corso del telegiornale per parlare ampiamente di quello che sta succedendo in Francia. Perché anche da noi questo è un election day importante perché ci sono i cinque referendum sulla giustizia e c'è un turno amministrativo che riguarda nove milioni di cittadini chiamati al voto per le comunali. Bene, i risultati continuano ad affluire in questi minuti perché la seconda rilevazione di giornata è quella delle 19 ed è ancora in corso. Per il referendum siamo sotto il 13% dei votanti fra gli aventi diritto e quindi appare abbastanza lontana la soglia del 50% più uno degli aventi diritto. Le urne chiudono alle 23, mentre siamo oltre il 40% nell'affluenza per le elezioni comunali. È intorno al 12.04 l'affluenza alle 19 per il referendum sulla giustizia. Per essere validi dovranno superare il quorum e cioè il 50% più uno degli elettori, un numero che sembra lontano. Dato comunque in aggiornamento ci sono delle piccole differenze tra i diversi quesiti. Sono cinque, tre riguardano direttamente i giudici. La separazione delle funzioni, la scheda è gialla, i criteri di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, scheda verde e le modalità di valutazione scheda grigia. Uno chiede l'abrogazione della legge Severino che regola la candidabilità dei politici, la scheda è rossa. Il quinto l'abrogazione della carcerazione preventiva, la scheda è arancione. Lo scrutinio per i cinque quesiti referendari inizierà alla chiusura dei seggi tra meno di tre ore. L'affluenza era bassa già all'ora di pranzo. Al 6.08 inferiore rispetto a quella della stessa ora del referendum del 2016 sulle trivellazioni. Anche in quel caso si votava in un solo giorno e alle 12 era stata dell'8 e 3, del 23 e 5 alle 19. Per quest'ultimo rilevamento non sono ancora disponibili i dettagli, ma è probabile che come per le 12 l'affluenza del referendum sia collegata a quella del voto amministrativo, cioè più alta nelle città dove si è votato anche per il sindaco. E infatti al 41.04 l'affluenza delle amministrative era al 17.06 alle 12. Voto per l'elezione del sindaco che coinvolge quasi 9 milioni di cittadini. 4 i capoluoghi di regione al voto, Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro, 22 i capoluoghi di provincia. Tra le città più grandi si vota Verona, Messina, Padova, Parma, Piacenza, Monza e Lucca. Previsto il ballottaggio il 26 giugno nelle città con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato raggiunge il 50% più uno degli aventi diritto. Dei 26 comuni capoluogo, 18 erano amministrati dal centrodestra, 5 dal centrosinistra, 3 da liste civiche. Sarà importante l'analisi del voto anche per quello incassato dai diversi partiti. Nel centrosinistra sotto esame il campo largo, il progetto di alleanza di Conte e Letta, contrastato da Calenda e Renzi. Nel centrodestra la sfida è soprattutto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per la leadership dello schieramento, con il segretario della Lega che oggi ha ricevuto il sostegno di Berlusconi per la vicenda del viaggio a Mosca. Alle 23 alla chiusura dei seggi ci sarà lo spoglio delle schede sui referendum per la giustizia. Domani alle 14 inizia lo scrutinio delle amministrative. Risultati che potrete seguire nello speciale della 7 Maratona, condotta dal direttore Enrico Mentana. E' stata invece una mezza giornata, soprattutto la prima parte di oggi, caotica per il voto a Palermo, dove si votava, oltre che per il referendum come nel resto dell'Italia, anche per le comunali. Non si sono infatti presentati molti presidenti di seggio e questo ha impedito l'apertura regolare di tutte le sedi per votare, con il caos, naturalmente, che ne è seguito. Il caos è finito poco dopo l'ora di pranzo, quando finalmente le 600 sezioni elettorali del Comune di Palermo sono diventate tutte operative. A quel punto però le operazioni di voto, referendum e elezioni comunali dovevano essere già cominciate da 7 ore. A bloccarle in oltre 100 seggi erano state le defezioni dell'ultima ora dei presidenti di seggio, una falla nella macchina operativa elettorale che si era manifestata già ieri pomeriggio al momento della costituzione dei seggi. Per tutta la notte i funzionari del Comune hanno lavorato alla quasi disperata ricerca dei sostituti, ma non è stato facile. L'appello a presentarsi volontari non ha avuto grande successo ed è stata chiesta anche la collaborazione degli ordini professionali. A giocare contro, è proprio il caso di dirlo, la contemporaneità con la finale play-off di calcio in programma in città stasera, dove il Palermo si gioca la possibilità di tornare dopo molti anni in Serie B. Così è possibile che almeno una parte degli oltre 150 tra presidenti di seggio e scrutatori assenti abbia preferito dare forfè per poter andare allo stadio ed eventualmente partecipare alla festa promozione. Per tutta la mattinata decine di sezioni sono rimaste chiuse in attesa di essere costituite con i supplenti e molti elettori sono stati invitati a ripresentarsi più tardi al seggio. Un caos che ha scatenato immediate reazioni politiche, a cominciare dal governatore siciliano Musumeci, che ha chiesto al ministro Lamorgese di lasciare aperti i seggi fino a domani alle 14. La replica non si è fatta attendere. Per un prolungamento dell'apertura dei seggi sarebbe necessaria un'apposita legge, ha spiegato il Viminale. A chi si troverà nel seggio al momento della chiusura alle 23 verrà però assicurata la possibilità di votare. Anche il ritardo nella costituzione dei seggi, secondo molti esperti, non pregiudica la validità della tornata elettorale in virtù del principio del favor voti. Spiegazione che non ha certo placato la polemica politica con i rappresentanti di tutti gli schieramenti molto critici sulla gestione della macchina organizzativa elettorale. Da parte sua il Comune ha inviato gli atti alla Procura per accertare eventuali responsabilità penali a carico di presidenti e scrutatori che all'ultimo momento non si sono presentati ai seggi. Un fatto gravissimo per il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ai magistrati, dice il compito di accertare fatti e responsabilità. Elezioni particolarmente travagliate quelle di Palermo. Nelle ultime ore c'è stato un attacco hacker al sito del Comune, con il furto di migliaia di file contenenti informazioni e dati sensibili, file che gli hacker avrebbero già provveduto a diffondere sul dark web. Andiamo in Ucraina, dove continuano ancora e sempre naturalmente i combattimenti intorno a Severodonetsk, che è considerata uno dei baluardi della difesa ucraina e che i russi continuano a voler conquistare. Città importante strategicamente, come lo era nel sud del paese Mariupol. Ma l'impressione è che la battaglia potrebbe volgere presto a favore di Mosca, almeno questa è l'interpretazione che ne danno i servizi statunitensi. Continuano, feroci e senza sosta, i combattimenti a Severodonetsk. Città strategicamente chiave tra gli ultimi ostacoli prima della conquista dell'intero Lugansk da parte dei russi. Città già occupata, in buona parte, dalle forze di Putin, che ora provano a prenderne il controllo totale. Anche per questo cercano di isolarla e nella notte hanno distrutto un altro dei conti e il secondo sui tre esistenti che conducono lì. E sempre a Severodonetsk alcuni degli 800 civili rifugiati nell'impianto chimico a Zot sono riusciti a uscire. L'impianto nel quale sono trincerati, in una drammatica replica di quanto successo nell'acciaieria a Zostal di Mariupol, anche militari ucraini, maccherrussi e filorussi, secondo una fonte dell'amministrazione della Repubblica separatista del Lugansk, non avrebbero intenzione di assaltare. L'impianto è sotto assedio e i soldati rimasti lì dovranno arrendersi. I prossimi due o tre giorni saranno significativi, dice il governatore ucraino del Lugansk Gaidai, che non esclude attacchi anche in altre direzioni con Lissi Shansk e Bakhmut prossimi obiettivi. E nei combattimenti di Severodonetsk, secondo quanto riportato dal Guardian e confermato dal Foreign Office, è stato ucciso anche Jordan Gatley, ex soldato britannico dimessosi dall'esercito di Sua Maestà lo scorso marzo per andare a combattere in Ucraina. Il momento è evidentemente di massima difficoltà per le forze di Kiev, nonostante queste ultime non manchino di sottolineare che stanno continuando a respingere gli attacchi degli occupanti. Il Donbass resiste, ha detto il presidente Zelensky. L'interrogativo è, per quanto tempo ancora potrà farlo? Non molto, e questo secondo un funzionario della difesa statunitense citato dal Washington Post, il quale ha affermato che la Russia controllerà il Lugansk nel giro di poche settimane. E mentre continua il processo di russificazione delle zone occupate, oggi vi si è celebrato il giorno della Russia, festa nazionale e a Melitopol e Kherson, per l'occasione sono stati consegnati i primi 500 passaporti russi, e Mosca annuncia che entro stasera la costa di Mariupol sarà completamente sminata. I missili russi colpiscono anche l'Ucraina occidentale, ieri sera è stata la volta di Chorkiv, regione di Ternopil. Sempre più complicati anche gli sforzi per giungere ad un accordo sul grano che la Russia, secondo il vice presidente della Commissione Europea Dombrovskis, starebbe bloccando. Il presidente Turco Erdogan ha annunciato per la prossima settimana nuovi colloqui con Putin e Zelensky sulla questione, e proprio per favorire l'export di grano, l'Ucraina ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania. Come si è capito dal servizio, la situazione militare sul campo si fa difficile, ma non manca il sostegno dei paesi europei a Zelensky. Dovrebbe essere entro la fine del mese l'incontro annunciato, ma per ora non confermato, dei tre principali leader europei, Macron, Scholz e Draghi, che dovrebbero andare a Kiev per comunicare proprio a Zelensky il primo sì che dovrebbe arrivare dall'Europa per l'adesione all'Unione di Kiev stessa. Olaf Scholz, Mario Draghi e Emmanuel Macron sarebbero pronti ad andare assieme a Kiev per incontrare Blodomir Zelensky. Dopo la visita alla seconda della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i leader di Germania, Italia e Francia, intenderebbero raggiungere la capitale ucraina a breve, prima del vertice del G7, in programma dal 26 al 28 giugno prossimi. Ad anticiparlo il quotidiano tedesco Bild, che t'ha conto di come, da tempo, Parigi e Berlino, siano all'opera per organizzare questa visita ufficiale. Visita che arriverebbe subito dopo il cruciale Consiglio europeo del 23-24 giugno, quello in cui, all'ordine del giorno, c'è proprio la proposta sulla candidatura ucraina. Insomma, i tre leader consegnerebbero ufficialmente a Kiev il sì all'adesione, ben inteso se tutte le obiezioni verranno superate. La presidente della Commissione Europea ha ribadito che gli stati membri sono chiamati a una decisione storica sull'opportunità di concedere all'Ucraina lo status di candidato all'UE. Spero che tra vent'anni, guardando indietro, potremo dire di aver fatto la cosa giusta, ha detto von der Leyen in Polonia a rientro da Kiev. Intanto oggi il segretario generale della NATO, Stoltenberg, in visita in Finlandia e Svezia, si è detto fiducioso sull'ingresso dei due paesi nell'alleanza, nonostante i legittimi timori della Turchia nei loro confronti e ha definito cruciale il prossimo vertice di Madrid del 29 e 30 giugno. Le decisioni della Svezia e della Finlandia di aderire alla NATO sono storiche, ha detto Stoltenberg alla conferenza stampa a Helsinki col presidente finlandese Sauli Ninista. I vostri paesi hanno delle forti democrazie e delle capacità militari e la vostra adesione alla NATO rafforzerà ulteriormente la regione nordica dell'alleanza e la nostra sicurezza. Ma questo centonovesimo giorno di guerra in Ucraina è stato anche il giorno in cui Mosca ha celebrato il Dien Rossi, giorno della Russia, la sua festa nazionale, che ricorda l'approvazione nel 1990 della dichiarazione di sovranità statale della federazione russa di Boris Yeltsin rispetto all'URSS e che oggi, più che mai, si è trasformato in un'occasione per celebrare l'unità del paese con parate e festeggiamenti che hanno coinvolto anche i territori occupati dell'Ucraina. Allora, fra qualche istante parleremo dei primi dati francesi, ma intanto andiamo negli Stati Uniti, perché c'è stata una prima intesa a livello di Senato fra parlamentari democratici e repubblicani su uno dei temi più sentiti in questo momento, proprio in quel paese, il controllo delle armi. L'indiscrezione era arrivata alle 14 di oggi, ora italiana, dal sito della CNN. Secondo fonti a conoscenza dei negoziati, un gruppo bipartisan di senatori avrebbe già trovato un'intesa sulla stretta delle armi in America, grazie all'ok di 10 esponenti repubblicani per superare l'ostruzionismo del Senato. Poi alle 18 la conferma. C'è un sì a un rafforzamento dei controlli per gli acquisti di pistole e fucili da parte di chi ha meno di 21 anni e anche a un aumento dei fondi per la sicurezza delle scuole. L'accordo spingerebbe anche gli Stati americani ad adottare le cosiddette leggi red flag, cioè quelle norme che consentono alla polizia e alle famiglie di chiedere a un tribunale dello Stato di togliere temporaneamente le armi a qualcuno che potrebbe essere pericoloso per se stesso e per gli altri. L'accordo non ha tutto quello che ritengo necessario, ma è un importante passo nella giusta direzione, ha commentato subito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sottolineando che se l'intesa sarà approvata dall'intero congresso sarebbe la più significativa degli ultimi decenni e che è pronto a firmare il provvedimento. Biden lo scorso 3 giugno aveva lanciato un accurato appello al congresso sulla stretta delle armi, chiedendo di mettere al bando quelle d'assalto e di aumentare dai 18 ai 21 anni il limite di età per comprare fucili semi-automatici. Il presidente aveva attaccato di petto i repubblicani che a suo dire si rifiutavano di avviare un dibattito serio sul tema. Sono incoscienti, il secondo emendamento non prevede diritti illimitati nell'uso delle armi. Intanto in questi giorni migliaia di americani sono scesi in piazza per chiedere una riforma dopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. La più atroce nella scuola elementare di Uvalde in Texas, costata la vita a 19 bambini e due insegnanti. Da New York a Washington altre manifestazioni sono attese in tutte le maggiori città americane. L'obiettivo è proprio quello di aumentare la pressione sul congresso affinché si muova e approvi presto una riforma. Urne chiuse da meno di 20 minuti in Francia per questo primo turno, confermata l'astensione record e si conferma anche che la maggioranza di Macron all'Assemblea legislativa appare proprio in bilico. Vediamo i numeri. Ci sono due dati che emergono più di tutto da questa giornata di elezioni legislativa in Francia appena conclusa. Il primo è che le urne sono andate semideserte. Alle 17 l'affluenza era del 39,42%, poi aumentata ma senza arrivare al 50%. In pratica è andato a votare meno di un francese su due. Il secondo è che quella che doveva essere solo una formalità per l'appena riconfermato presidente Macron con la sua coalizione centrista Ensemble è stata invece un'elezione che lo ha tenuto con il fiato sospeso. E infatti i primi exit poll danno la maggioranza relativa dei voti al primo turno alla coalizione di sinistra NUPS di Jean-Luc Mélenchon che ha superato, seppur di poco, la coalizione del presidente 26,20 contro 25,80 secondo l'Istituto di Sondaggi e Lab con la proiezione dei seggi per Ensemble da 270,310 e NUPS tra 170 e 220. Mélenchon, 71 anni, ha preso la scena in una campagna elettorale peraltro da dove è praticamente sparita Marine Le Pen terza in questi primi exit poll che invece aveva dato del filo da torcere a Macron durante le presidenziali. Ora l'appuntamento è per il secondo turno domenica prossima, vedremo se confermerà il trend del primo turno e se Macron riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta fissata a 289 seggi dell'Assemblea. Quadro ancora più complicato visto che sono ben 15 i ministri del governo in carica che in questa corsa si giocano il posto tra cui persino la premiera Elizabeth Bourne una regola non scritta inaugurata da Nicolas Sarkozy nel 2007 infatti fa sì che i ministri candidati alle elezioni nel caso di sconfitta siano costretti a dimettersi. Qualunque sia il risultato finale oltre gli exit poll quello che è certo è che Melanchon ha oscurato la scena a tutti non solo a Marine Le Pen dell'Etheria sembra essere stata la pausa dopo le presidenziali rimasta indietro non è riuscita poi a raggiungere gli sfidanti già in piena campagna elettorale ma lo stesso Macron nell'ultimo comizio a Marsiglia Melanchon si è scagliato contro la Banca Centrale Europea che ha appena annunciato l'aumento dei tassi di interesse contro l'aggressione russo in Ucraina si è detto a favore di un intervento dell'ONU promette di aumentare il salario minimo e portare la pensione a 60 anni misure che gli hanno fatto affibbiare da un ironico ministro dell'economia il soprannome di Chavez francese l'ex presidente del Venezuela mentre il servizio andava in onda arrivavano anche le prime proiezioni sui seggi ma sono solo idee perché essendo un doppio turno bisogna vedere come andranno le alleanze ebbene secondo l'istituto i sondaggi che l'ha effettuato alla coalizione di Macron ensemble potrebbero andare fra i 270 e i 310 seggi maggioranza è a 289 mentre alla gauche di Mélenchon la proiezione attribuisce fra i 170 e i 220 seggi quindi tutto ancora da vedere parliamo delle mascherine ultima settimana almeno per ora in Italia il nodo potrebbe sciogliersi già domani nel vertice in programma tra il ministro della salute Roberto Speranza e quello dell'istruzione Patrizio Bianchi sarà sul tavolo anche la questione obbligo o meno per le mascherine agli esami il mondo della scuola studenti in testa si è già schierato contro l'obbligatorietà del presidio di protezione che più o meno ovunque è ormai solo raccomandato il ministro Bianchi ha dichiarato che sarà il presidente della commissione esaminatrice a decidere se il candidato potrà o meno abbassare la mascherina agli orali ma i presidi hanno subito rimandato al mittente la questione se è una norma sanitaria deve essere il ministero della salute a dare indicazioni precise al mondo della scuola dal canto suo il sottosegretario della salute Andrea Costa ribadisce che la questione può essere risolta velocemente con un decreto potremmo ha detto già approvarlo nel prossimo consiglio dei ministri del 15 giugno abolendo l'obbligo di mascherine alla maturità intanto già da mercoledì non sarà più obbligatorio indossare le mascherine nei cinema nei teatri e per assistere agli sport al chiuso resta ancora incerto l'uso sui mezzi di trasporto il ministro Speranza ha anticipato una decisione sulla possibilità di raccomandare oppure obbligare ancora gli utenti ad indossare le mascherine sugli aerei ad esempio dove i sistemi di aereazione sono molto efficaci si pensa di adeguare quelle italiane alle norme della gran parte dei paesi europei che hanno lasciato alla discrezionalità individuale se portare o meno il dispositivo di protezione che ci ha accompagnato nella lunga stagione della pandemia e siamo allo sport alla Formula 1 aspettavamo Leclerc Leclerc non è arrivato al Gran Premio di Baku in Azerbaijan ancora un altro disastro Ferrari disarmo totale zero punti per Leclerc e zero punti per Sainz dopo un weekend di pole position e illusioni ha vinto Verstappen quinto successo stagionale che vola via in classifica secondo posto per il suo compagno di squadra Perez non c'è stata mai battaglia avvilente troppo facile per le Red Bull che mettono a segno una doppietta pesantissima ad un certo punto della corsa hanno anche disattivato il DRS limitando le prestazioni offensivo gli uomini in rosso non ne indovinano uno in questa strana stagione che sembra già finita la vettura c'è i piloti anche altrimenti non si spiegherebbero le sei pole position conquistate ma tutto questo potenziale dovrebbe essere tramutato in punti e invece no manca la gestione quindi e sotto accusa tocca un'altra volta al team principal Binotto questa volta è l'affidabilità a essere mancata l'immagine di Leclerc che si ritira e la nuvola di fumo bianco fa malissimo alla storia della Ferrari anche perché Leclerc era al comando della Ghana un doppio stop per guasto non accadeva dal 2009 domani analizzeremo cosa è successo dicono dal muretto ma forse è proprio questo atteggiamento rinunciatario che non va bene ci vuole più fame giornata positiva invece per la Mercedes che ha messo sul podio Russell con Hamilton in crescita quarto tra mille problemi e sofferenze a causa del poor poising quello strano saltellamento che hanno tutte chi più chi meno le vetture di quest'anno è andata male in Formula 1 è andata bene molto bene nel tennis grazie a Matteo Berrettini che ha vinto il torneo sull'erba di Stoccarda contro lo scossese Murray il giocatore romano infatti dimostrato di essere definitivamente guarito dopo l'intervento chirurgico subito a aprile 6-4 5-7-6-3 il risultato finale maturato dopo che Murray ha dovuto far ricorso per due volte all'aiuto del fisioterapia dopo il match Berrettini era emozionato è quasi incredibile vincere il torneo tre anni dopo l'ultima volta non lo avrei mai immaginato dopo di noi una serata molto intensa gli ospiti di Inonda sono Luigi Manconi padre Alex Zanotelli e Umberto Galimberti dopo c'è non è l'arena con Massimo Giletti tanti ospiti vi cito Tommaso Cerno Guido Crosetto Luigi De Magistris Alessandro Sallusti Daniela Santanchè e Alessandro Orsini pochi secondi e torniamo con gli aggiornamenti l'aggiornamento riguarda l'affluenza alle urne alle 19 che non è ancora definitiva per i referendum sono 5 diciamo che intorno al 14 e 10% i numeri sono poco diversi fra un referendum e l'altro mentre per le comunali siamo al 39 e 78% ora c'è Inonda subito dopo non è l'arena grazie e buon proseguimento di serata ci vediamo domani grazie 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 grazie